Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen, mio Gesù, grazie per questo giorno che mi hai permesso di vivere. Grazie per avermi fatto sentire come se fossi sempre nelle tue mani e che ci sei tu che mi proteggi da tutto il male. Eccomi, Gesù, sono qui con te. Ho tutto il mio essere a tua disposizione perché ho capito oggi e in ogni giorno che la vera felicità viene solo da te. Grazie, Gesù, per tutto quello che è accaduto in questo giorno. Grazie per la mia famiglia. Grazie per la forza che mi hai dato per affrontare anche le difficoltà. Signore, lo sai che ancora tanto è il mio cammino. Tante sono le preoccupazioni. E ancora non riesco ad essere sereno come vorrei. Ma sembra che ogni giorno arrivi qualcosa che mi toglie la serenità. Signore, io ti sento vicino. Io ti sento accanto. Ma a volte mi scoraggio. A volte mi sembra che questo peso enorme sulle mie spalle arrivi a schiacciarmi. Dammi, Gesù, la forza di trovare più motivi per continuare a vivere e lottare. Io voglio tornare ad essere innamorato della vita. Voglio tornare ad essere gioioso come lo era un tempo. non permettere che io mi distragga da così tanti rumori. Che io mi distragga da questo mondo. Che io mi distragga portato via dai troppi brutti pensieri. Signore, riempi la mia vita con i tuoi doni e le tue benedizioni per dormire sereno e tranquillo e per alzarmi domani come una persona nuova. Gesù, fai in modo che io possa riposare questa notte senza paure, senza preoccupazioni e senza tensioni. Ti amo, Gesù. Voglio nascondermi nel tuo cuore perché lì è il posto più tranquillo del mondo. Benedicimi, Signore, ora e sempre. Buonanotte, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo com'era in principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. e